Grado t-axa e lunga di barra verticale o è 0 a con con accento acuto Grado t-axa e lunga di barra verticale o è 0 a con con accento acuto o è a con di eresi è 0 e t-islandese o è minore di x t-apostrofo a con con accento acuto t-a con di eresi. 44 apostrofo sottolineatura 4 barra euro 4 sottolineatura uguale. 44 euro 0 uguale 44 uguale sottolineatura uguale. 4 euro 4 barra 8 y apostrofo. 4 aperta parentesi chiusa parentesi. Tiena u con con accento grave x. x. u con di eresi a con di eresi u con con accento grave chiocciola grado negazione x u con di eresi e t-islandese i x t-a con di eresi. 6. 4. 44 uguale euro sottolineatura 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 barra sottolineatura uguale. t-e barra rovesciata x t-a con anello o è. a x i a con di eresi ut. . a con con accento acuto x a con di eresi. 8 e a con con accento acuto t. a con di eresi ut. a con di eresi u con di eresi per cento grado negazione e t islandese t euro ta t a con di eresi utta, t barra rovesciata x t u con di eresi per cento e t islandese a con di eresi 8. a con con di eresi utta, t islandese x o e h, a x t, grado negazione a 0 yen. 4 sottolineatura barra sottolineatura uguale 84 4 0 apostrofo. u ec minore di t minore di euro. . 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 Grazie.